allora buongiorno a tutti finalmente è giunto il momento di parlare di questa macchina fotografica qui che è la macchina fotografica che uso di più parliamo quindi della fujifilm x h1 questa macchina è uscita nel 2018 io però l'ho comprata nel 2020 durante il lockdown come sapete dal video che metterò qui sopra il link la mia prima macchina acquistata di questa epoca qui perché prima utilizzavo delle macchine a pellicola è stata la fujifilm xt20 che peraltro sta riprendendo in questo momento ho spiegato appunto nel video il perché sono finito a preferire le macchine fotografiche fuji quali sono le caratteristiche dell'intero ecosistema fuji e quindi non ripeterò le stesse cose quindi partiamo da questi dati di fatto cioè quelli che ho descritto nel video di cui ho appena postato il link quindi dopo qualche anno devo dire molto soddisfacente di utilizzo della xt20 ho cominciato a maturare qualche esigenza in più in particolare volevo una macchina che fosse tropicalizzata quindi che potesse resistere agli elementi naturali chiaramente non parliamo di capacità subacquee però speriamo di resistenza alla polvere resistenza all'umidità resistenza al gelo e anche alla pioggia quindi che mi consentisse di usarla con una certa confidenza anche in giorni di pioggia lieve ovviamente inoltre volevo una macchina che fosse un po più pesante ecco un po più di sostanza soprattutto per poterla usare con una certa confidenza con obiettivi un po più grossi perché la xt20 è veramente minuscola eccezionale con obiettivi piccoli e leggeri ma quando si cominciano usare obiettivi un po più grandi tipo il 1024 o il 18135 diventa molto sbilanciata è anche una struttura un po più leggera che fa più fatica a sostenere questo tipo di obiettivi quindi questa è la seconda caratteristica la terza caratteristica che però deriva dalle particolarità di questa macchina e avere il sensore stabilizzato il sensore stabilizzato consente di poter usare obiettivi non stabilizzati usufruendo dei vantaggi della stabilizzazione o di sommare gli effetti della stabilizzazione del sensore con quelli della stabilizzazione delle ottiche qualora queste siano siano stabilizzate comunque questa qui è la premessa quindi ho cominciato a cercare senza neanche in tanto impegno diciamo così una xt2 usata perché all'epoca era l'ammiraglia di casa fuji che non aveva il sensore stabilizzato ma era tropicalizzata aveva diciamo sì dei nottolini in più quindi era un po più ergonomicamente valida da usare però diciamo così costi eccedevano quello che io volevo spendere nel 2018 esce questa macchina questa macchina è stata pensata dalla fuji per essere l'ammiraglia di casa fuji e hanno voluto anche dare un stacco rispetto alla linea xt infatti si chiama xh è un'altra linea xh1 questa macchina quindi aveva delle particolarità uniche nel panorama delle fuji intanto manteneva i nottolini fino a un certo punto ma il terzo nottolino che nella xt2 poi le quelle successive era qui è stato sostituito da un display di servizio molto comodo che serviva appunto a vedere alcune informazioni tipo quanti scatti si potevano ancora fare lo stato di carica delle batterie eccetera eccetera inoltre questa è la prima macchina della fuji ad avere il sensore stabilizzato è una macchina tropicalizzata è una macchina pesante più pesante della xt2 anche più grossa quindi probabilmente strizzava l'occhio sia ai videografi sia ai fotografi di sport che chiaramente una macchina che si tiene meglio in mano consente di avere dei vantaggi quando si usano ottiche lunghe inoltre pur mantenendo lo stesso sensore di tutte le altre macchine fuji quindi un 24 megapixel aveva un processore più veloce e quindi appunto utile sia per la videografia sia per le fotografie di sport oppure naturalistiche infine aveva delle funzioni particolari proprio per utilizzarla come come videocamera quindi delle opzioni in più nel software che consentivano di utilizzarla in maniera migliore di ottenere risultati migliori rispetto alla xt2 che appunto era l'ammiraglia dell'epoca come ultima caratteristica il pulsante di scatto ha un sistema mi pare ad aria comunque estremamente morbido estremamente sensibile e quindi consentiva di scattare in maniera meno meccanica e quindi di prevenire in un certo qual modo il mosso quando si scattava a mano libera quindi era una macchina insomma che migliorava la xt2 in tanti aspetti e che sicuramente aveva una maggiore efficacia in tutti i tipi di fotografia paesaggio sportiva di ritratto e anche come videocamera il problema di questa macchina però è stato che la campagna di marketing e anche il concetto di marketing c'è stato dietro questa macchina è stata del tutto fallimentare infatti questa macchina aveva un prezzo molto alto parliamo di oltre 2500 euro solo per il corpo macchina e considerate che le xt2 che aveva peraltro lo stesso sensore costava sui 1600 1500 1600 sempre solo corpo macchina quindi c'era uno scatto di 1000 euro a fronte di questo oltre le innovazioni che vi ho detto io non c'era nient'altro quindi la gente si aspettava soprattutto un sensore nuovo che avesse caratteristiche migliori rispetto a quello da 34 megapixel invece hanno montato lo stesso sensore che c'era su tutte le altre macchine della fuji quindi uno si potrà chiedere ma perché dovrei comprare una macchina nuova si ha tutte queste cose ma ma magari aspetto che esca un'iterazione successiva che possa completare le innovazioni anche con un sensore nuovo e infatti la fuji incredibilmente ha accontentato queste persone perché dopo pochi mesi dall'uscita di questa camera è uscita la xt3 che era appunto la versione successiva della xt2 che manteneva più o meno lo stesso concetto quindi non aveva il sensore stabilizzato e tutto quello detto però aveva un nuovo sensore da 26,6 megapixel è un nuovo processore quindi per la combinazione di tutti questi fattori questa macchina non ha avuto assolutamente nessun successo commerciale pur essendo una macchina validissima quindi fu diciamo così tra virgolette un fallimento commerciale di questa macchina da parte della fuji ora tornando a quello che avevamo detto all'inizio io ho aspettato un pochino poi durante il lockdown del 2020 questa macchina ha raggiunto dei prezzi quasi ridicoli considerate che io l'ho presa nuova con anche il battery grip che aggiunge sicuramente un'impugnatura in più e quindi un'ergonomia superiore e contiene altre due batterie quindi per diciamo sì il complesso della macchina arrivava a tre batterie apri chiudo parentesi le batterie di questa macchina peraltro sono di una tipologia ormai superata della fuji non fa più queste qui e che erano uno dei problemi di questa macchina così come di tutte le altre macchine fuji ossia una durata veramente bassa quindi avere un battery grip che aggiunge due batterie consente di fare delle sessioni fotografiche senza il patema di dover cambiare batterie ogni pochi scatti quindi con il battery grip ha raggiunto il prezzo di 900 euro infatti questo è quello che ho pagato per la macchina più il battery grip quindi un'occasione non mi sono fatto sfuggire e ho cominciato a utilizzarla è stato un salto di qualità rispetto alla xt20 perché la qualità delle foto non è cambiata però è cambiata appunto l'ergonomia il piacere di usare questo tipo di macchina è più pesante sicuramente però il fatto di avere per esempio il battery grip spesso mi vedete usarla col battery grip che potrebbe anche essere un'assurdità portarsi del peso in più così però quando porto questo non mi porto un'altra borsetta con tutta una serie di accessori tra cui le batterie quindi alla fine il peso rimane quello inoltre quando ho comprato questa macchina ho comprato anche il 18 135 che è un obiettivo che presenterò in un secondo momento che praticamente mi ha consentito di portarmi dietro meno obiettivi e per cui con il 18 135 con 10 24 praticamente avevo tutte le focali che mi servivano nelle mie uscite questa macchina appunto dicevo è un salto di di qualità anche dal punto di vista ergonomico a due nottolini doppi quindi su questo nottolino ci sono gli iso sul nottolino inferiore le modalità di scatto quindi video bracketing scatto rapido scatto medio scatto lento premio di raffiche scatto singolo eccetera eccetera panoramica c'è anche una modalità panoramica e quant'altro su quest'altro nottolino invece c'è ci sono i tempi di scatto e al di sotto c'è un contro nottolino invece con le modalità di lettura dell'esposimetro dopodiché c'è appunto il pulsante di scatto con la ghiera per accendere e spegnerla il pulsante per la compensazione dell'esposizione il display che contiene tante informazioni senza senza bisogno di leggerle dall'oculare o dal display poi è molto personalizzabile si possono mettere delle informazioni qui e non metterle sul display o viceversa sulla parte davanti abbiamo una ghiera che a seconda del pulsante che premiamo può regolare determinate funzioni il pulsante della profondità di campo il pulsante di sblocco dell'obiettivo qui abbiamo un ingresso per un cavetto di sincronizzazione di un eventuale flash la modalità di scatto quindi il settore della modalità di scatto tra messa a fuoco singola messa a fuoco continua e messa a fuoco manuale ripetiamo appunto della modalità di messa a fuoco sul retro abbiamo un'altra ghiera che sempre se abbinata a un pulsante o una funzione mi consente di regolare i valori il pulsante di blocco dell'esposizione della messa a fuoco qui c'è un joystick ed è un joystick che consente diciamo di affiancarsi al d pad nella scelta del delle funzioni sul sul menu il pulsante menu il pulsante di selezione delle modalità del display qui abbiamo un tasto q con questo tasto a un menu rapido con tutte le funzioni diciamo così messe sotto forma di icone che può far risparmiare del tempo e qui abbiamo la ghiera delle diottrie un pulsante per selezionare la modalità di visualizzazione del display quindi solo display solo viewfinder o entrambi o selezionati tramite un sensore ottico che è qui dentro al mirino in più abbiamo un display che può ruotare diciamo così in tre direzioni quindi può essere ruotato in questa maniera quando abbiamo la fotocamera verticale dopodiché può essere ruotato verso il basso oppure verso l'alto ecco un'altra cosa che ci si aspettava da una macchina tipo questo era il flip screen c'è la possibilità di ruotare il display a 180 gradi o anche verso il basso per poter avere più possibilità creative e anche per utilizzarla per dei vlog questo chiaramente non è stato fatto questo tipo di display è stato preso pari pari dalla xt2 identico a quello che c'era in più abbiamo uno sportellino che cela tutte le varie connessioni che ci sono quindi usb e hdmi più una presa per una cuffia dopodiché abbiamo uno sportellino qua sotto per il vano batterie qui abbiamo un altro sportellino che è un altro che contiene i connettori al battery grip e poi in quest'altro sportello invece abbiamo le due memory card le memory card qui sono di tipo veloce quindi uhs 2 avere due due slot consente di per esempio registrare i video su uno le foto sull'altra oppure utilizzarle in serie quindi nel momento in cui si riempie una si comincia a riempire l'altra oppure di copiare la foto il video su entrambe in modo tale che se una carta fallisce c'è sempre l'altra come backup brevemente parliamo anche del battery grip il battery grip oltre ad avere una presa maggiore a consentire una presa maggiore ripete tutti i vari comandi che abbiamo visto lì incluso il pulsante di accensione e di scatto soprattutto quando si tiene una fotocamera in questa maniera in formato verticale adesso magari brevemente vi faccio vedere come come la macchina col battery grip montato l'operazione molto semplice ecco qui capite che è una macchina che diventa importante come peso ma molto più comoda da tenere in mano sia in formato orizzontale sia quando si scatta in formato verticale e quindi alla fine sono stato molto contento della mia scelta è una macchina che ho usato tantissimo che continuerò ad utilizzare nel frattempo è uscita anche la xt4 quindi dopo la xt3 dopo un anno e mezzo è uscita la xt4 che ha le stesse caratteristiche della xt3 ma con il sensore stabilizzato da 26,6 megapixel si pensava che questo fosse un sintomo dell'abbandono da parte dei fuggi della linea xt visto che aveva avuto poco successo in realtà quest'anno è uscita una xt2s che una macchina completamente diversa hanno finalmente capito che dovevano essere discontinui rispetto alla linea xt una macchina senza nottolini è una macchina che ha un sensore da 20 megapixel però è velocissima e ha delle funzioni video veramente molto avanzate quindi questa è una primo modello che uscito quest'anno xt2s prossimamente uscirà anche una xt2 normale che avrà invece un sensore da oltre 40 megapixel sempre a psc e quindi non cambieranno le ottiche non cambierà l'attacco per gli obiettivi però sarà una macchina fotografica che avrà forse meno velocità probabilmente sarà meno adatta ai video quindi avrà meno funzioni video ma sarà molto più adatta a foto di ritratto di paesaggio quant'altro quindi hanno pensato di sdoppiare la linea come hanno fatto anche altre case in passato con le reflex per fornire all'utenza l'opzione migliore a secondo del tipo di fotografia che fanno parliamo sempre macchine comunque top di gamma perché il prezzo è sempre quello 2005 2700 euro e quant'altro e secondo me hanno fatto una cosa intelligente quindi la linea xt avrà sempre la sua ammiraglia e poi una linea diciamo così più specifica per dei per degli utilizzi più specifici che ha caratteristiche molto specialistiche quindi questo è quanto chiaramente come sempre non è stato un video tecnico perché anche di questa macchina ne trovate a bizzeffe in rete comunque io non sarei in grado sinceramente io sono spiegato perché ho scelto questa macchina peraltro questa macchina è ancora in vendita quindi tipo chi volesse essere interessato si possono fare ottimi affari su questa macchina comprata nuova ovviamente se vi è piaciuto questo video mi raccomando di mettere un like se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta Grazie a tutti